Domani saranno avviati i lavori di derattizzazione in varie scuole, ville e strade dove sono state segnalate particolari criticità. L'amministrazione comunale ha prenotato 6.650 euro per quattro interventi con cadenza trimestrale che saranno effettuati in diverse scuole pubbliche, nella biblioteca comunale e altri quattro interventi trimestrali di derattizzazione da effettuare in dieci tra zone, strade, piazze o ville comunali. Per quanto riguarda le scuole, tutte e tre le dirigenti degli istituti comprensivi giarresi avevano chiesto al Comune interventi di derattizzazione nei rispettivi plessi scolastici. Saranno quindi collocate cassette di idrodenticidi in una serie di scuole, tra cui il Monsignor Alessi, la Scuola Elementare di Carrubba, il Plesso San Giovanni Bosco, il Plesso Russo di Valle Mediterraneo, il Plesso Cosentino, la Scuola di Altarello, il Plesso e la Palestra Iungo, il Plesso Scolastico di Tre Punti, la Scuola dell'Infanzia di Via Siracusa e il Plesso Maccherione.